Strade trasformate quasi in fiumi sotto passi chiusi, tra questi quello di via Montà che porta allo stadio Galeo che è stato poco dopo rieperto, violentissimo il temporale che poco dopo le 15 si è abbattuto nella zona ovest di Padova. Disaggi pesantissimi in lungo corso Australia dove già si affollavano i fans di Vasco Rossi in coda per il secondo concerto sold out da 40.000 persone. Disagio anche a Brusegana e lungo via dei Colli. A caselle di Selvazzano diversi danni nel quartiere e anche interruzioni temporanee dell'elettricità. Al lavoro per diverse ore vigili del fuoco, agenti della Polizia Municipale e Protezione Civile coordinati da Prefettura e Comune di Padova.